Buon pomeriggio, bentornati in redazione. Il turismo, di sicuro annoverabile tra gli ambiti trainanti della nostra economia, risulta essere in grande espansione nell'ultimo periodo. Basti pensare alle cifre che hanno caratterizzato le visite in Italia nel periodo congreso tra le vacanze di Pasqua e il primo maggio. 13 milioni di visitatori, con una crescita stimata del 2,1% di presenze nelle strutture ricettive alberghiere ed extraalberghiere rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A crescere è stato soprattutto il Mezzogiorno in Italia che, secondo quanto stimato dalle previsioni della vigilia, avrebbe fatto registrare una crescita pari al 3,4%. Città come Napoli, Catania e Palermo hanno visto, secondo quanto già è emerso dalle previsioni, un grande afflusso turistico durante questo lungo periodo vacanziero. Per saperne di più vi rimando al sito www.lanottoline.it vi ricordo la mail redazione.lanotti.gmail.com mi raccomando iscrivetevi al canale YouTube e vi aspetto in redazione domani per augurarvi un buon fine settimana. Per ora è tutto e buona serata.